Per la Dance Company è fiera di presentare un nuovo spettacolo della compagnia che è dedicato, è un omaggio infatti alla grande pittrice Frida Kahlo che è vissuta nella prima metà di questo secolo la quale all'età di 17 anni è stata gravemente rimasta ferita in un incidente stradale che l'ha immobilizzata e intrapolata all'interno del suo corpo ed è riuscita senza pudore a descrivere la sua vita all'interno dei suoi quadri quindi attraverso la pittura Durante lo spettacolo gli spettatori saranno in grado di vedere oltre a noi danzatori a cantanti, musicisti, attori saranno in grado di vedere anche i quadri più famosi e più rappresentanti di questa attrice che quindi riusciranno proprio a essere trasportati nella sua vita, nella sua storia che è una storia proprio commovente, una storia difficile perché Frida comunque ha avuto tante difficoltà nella propria vita però è sempre riuscita a cavarsela, è sempre riuscita col suo carattere forte e determinato ad avere comunque degli sbocchi appunto anche nella pittura perché è famosissimo come pittrice, come artista e anche a livello politico nel Messico di quell'epoca comunque Lo spettacolo è stato scritto, diretto e coreografato da Simona Paterniani che comunque attraverso Frida ha cercato di mettere in scena ciò che più la rappresenta e ciò che più diciamo somiglia al carattere di questa grande pittrice e i danzatori sono Rita Berardi, Gianmarco Cilia, Sara Paterniani e Camilla Legrucci e diciamo rappresentiamo la sua identità e la sua storia poi abbiamo anche musicista Giulio Vampa e la cantante Laura Sanchioni che cercano di raccontare musicalmente la storia di Frida e poi abbiamo anche l'attrice Erika Di Malta che diciamo dà voce all'anima di Frida per tutto lo spettacolo e lo spettacolo sarà giovedì 14 luglio alle ore 21.30 all'ex chiesa di San Francesco a Fano e i biglietti si potranno trovare presso il botteghino e al teatro della fortuna a Fano e il costo è di 12 euro e il costo è di 12 euro